Angeli Onoranze Funebri, un'azienda gestita da persone sensibili e preparate, aventi un forte legame con il territorio e con le persone che lo abitano, operando in collaborazione e sintonia con le diverse istituzioni religiose e le amministrazioni comunali. Possibilità di pagamenti agevolati per cercare di fornire un ulteriore aiuto alle famiglie che si rivolgono a noi in un momento così delicato e difficile. Siamo presenti in tutta la provincia di Padova. Per informazioni www.angelionoranzefunebri.it Ci troviamo a Battaglia Terme, in via di Colli Ogani 13, vicino alla chiesa, e a Monsedice, in via Garibaldi 72. Per informazioni 049-9100-706 oppure 346-988-7725, reperibili 24 ore su 24. Angeli, onoranze funebri.